Salve e buonasera a tutti, sono Ivano Alberto Pimponi, il Presidente del Comitato dei festeggiamenti di San Giovenale. Innanzitutto grazie per la partecipazione così numerosa a questa serata. Serata che è senza fine di lucro, perché lo scopo nostro è quello di raccogliere i soldi prettamente per la parrocchia. Per la parrocchia e per iniziative che ricadono nell'ambito del quartiere di San Giovenale. È una festa che abbiamo organizzato quasi tutti gli anni, tranne mi sembra l'anno scorso che non è stata fatta. Sono feste che tradizionalmente facciamo qui nell'ambito del quartiere e soprattutto nel periodo di carnevale. Ecco, nient'altro e grazie, di nuovo grazie, grazie a chi ci ha supportato con la presenza, grazie chiaramente a tutti i componenti del Comitato. Un grazie particolare soprattutto a chi ha operato forse nel posto più nascosto, cioè nelle cucine. Ma che io penso che sia la cosa fondamentale, perché se non gira la cucina non gira niente. E di nuovo grazie, grazie a tutti e speriamo da rivederci. Io già lancio l'appuntamento per la festa di Sant'Antonio. Anzi, forse faremo qualcosa anche prima, ma sicuramente ci vedremo per Sant'Antonio qui in piazza. Grazie di nuovo e buona serata, buon divertimento.